Ho distrutti, ho curati, perché non è possibile se c'è una pianta qua di olive a un chilometro di me, domani arriva qua vicino a me e dopo domani entra in mia azienda. Non è possibile. A parlare è Uzi Cairo, genius loci della produzione florificola in serra nel Salento. Tre aziende nelle campagne tra Copertino e Leverano, 12 ettari a vivaio, 40 operai, esportazioni in tutta Europa e un progetto di filiera del melograno che a regime punta a creare con 5.000 ettari, 80.000 posti di lavoro, indotto incluso. Progetto per il quale ha speso di tasca propria oltre un milione di euro. Lui, come tutti gli altri della zona, si è visto bloccare le vendite per un mese a causa dell'axilella fastidiosa, con danni non ancora quantificati tra ordini in evasi, partite in vendute e clienti persi, cui vanno aggiunte le spese delle analisi imposte sulle piante di tutti i vivai. Le recenti analisi fatte negli ultimi giorni confermano quello che si era già preventifato prima, noi, quello che si era stato detto in diverse riunioni. Che i vivai sono tutti sani, integri e perfetti, insomma. Fuori ci sono piante di olivi abbandonati, non curati, non affiate, non trattati, non puttati, non niente. E noi abbiamo una paura se di loro, loro creano a noi problemi per il futuro. Da qui la richiesta, o curare o abbattere gli olivi infetti, pena rischiare l'epidemia inversa dalle campagne ai vivai, mentre si sta valutando la possibilità di addire le vie legali per il risarcimento danni rispetto alle mancate vendite.